Il verde come arte, come cura dell'anima, come custode della biodiversità. A Roma, all'Orto Botanico, si sono dati appuntamento architetti, studiosi del paesaggio, espositori, per la conserva della neve, una mostra a mercato florovivaistica. Stare in un giardino è un grosso privilegio, un privilegio di chi possiede un giardino storico, un grande giardino storico, una dimora importante, quindi comunque deve preservarlo, ma oggi è un po' alla portata di tutti. Una manifestazione che ha già una lunga storia e prende il nome da Villa Lante a Bagnaia, frazione di Viterbo, uno dei più famosi giardini italiani. Spero che questa mostra nel suo piccolo sensibilizzi un po' tutti verso questa visione del verde come patrimonio importante quanto un patrimonio artistico. Grazie. Grazie.